Siamo con il senatore Gaetano Quagliariello, senatore di IDEA, adenente al gruppo di Forza Italia e professore ordinario di storie contemporanee e presidente anche della fondazione Magna Carta. Parliamo del suo ultimo libro, Un'altra libertà, scritto a quattro mani, un faccia a faccia con Camillo Ruini, già presidente della conferenza episcopale italiana. Lei si definisce un liberal conservatore. In dialogo con i cristiani è possibile? No, non solo è possibile, ma è necessario, perché io credo che oggi in realtà si stanno mettendo in discussione alcuni principi del cristianesimo che hanno fondato la nostra civiltà. E questi principi, proprio appunto per la loro forza di civilizzazione, hanno un significato evidentemente per chi crede, ma hanno anche un significato per chi non crede e sono stati i principi che hanno fondato la nostra idea di libertà. Quindi, insomma, il tema che sottende questo dialogo è se questi principi cadono, vengono travolti. Noi avremo più libertà individuale oppure questa è semplicemente una illusione e la libertà sarà travolta. Lei parla di dittatura dei diritti, perché ogni desiderio in questa fase storica deve tramutarsi in un diritto. Sì, insomma, il liberalismo innanzitutto è l'elogio dell'imperfezione. Anche la libertà per un liberale non giacobino è imperfetta. E soprattutto è una libertà che si fonda sul rispetto di alcune situazioni previe. Una è il rispetto della libertà degli altri. Cioè la tua libertà non è assoluta, si interrompe dove invade la libertà di un altro. La seconda è che una persona non è una monade, è all'interno di una comunità, è un tutto che si riferisce a un altro tutto. E di questa situazione deve tener conto. Quindi risponde a qualcuno. Ecco, queste idee fondano un concetto di libertà che immagina una società aperta è soprattutto un futuro aperto. Lo diceva Popper, il futuro è sempre incerto per un liberale. Perché? Perché appunto le proprie determinazioni non solo devono tener conto delle determinazioni degli altri, ma si incontrano e si scontrano con le determinazioni degli altri. E invece oggi si sta affermando un'idea di libertà differente. Cioè un'idea di libertà assoluta. L'individuo deve essere libero di determinare qualsiasi scelta, dalla nascita alla morte, anche prima della nascita, anche dopo la morte. E questa è un'idea di libertà secondo me illusoria e totalitaria. Ecco, qui questo è un aspetto importante del suo libro Contro i nuovi profeti del paradiso in terra. Ecco, perché c'è il rischio che l'esasperazione appunto di questi diritti che non trovano mai un limite, poi alla fine hanno come risultato lo scardinamento di una società, di una civiltà. E un po', insomma, le idee cadono, ma le mentalità no. Nel secolo scorso chi voleva il paradiso in terra pensava che ci potesse essere una eguaglianza assoluta. Era appunto l'idea comunista che ha determinato quello che sappiamo. In questo ventunesimo secolo i nuovi profeti del paradiso in terra sono quelli che ritengono che la libertà dell'individuo possa essere assoluta e che da ogni suo diritto nasca un altro diritto, per cui qualsiasi desiderio si tramuta in un diritto e c'è poi qualcuno che te lo deve assicurare, questo qualcuno è lo Stato. Ecco, questa idea secondo me non è meno perniciosa di quella che, grazie al cielo, abbiamo sconfitto nel secolo precedente. Nel libro lei tocca argomenti molto sensibili, appunto, ne ha parlato prima, a fine vita, aborto, soprattutto sull'utero in affitto c'è un passaggio che lei dice alla fine penalizza i più deboli. Beh, questo non c'è dubbio. Io credo che quello che viene chiamato utero in affitto, che insomma politicamente, in maniera politicamente corretta si dice maternità surrogata, è un qualcosa di obrobrioso, perché considera fondamentalmente la donna, il corpo della donna come un mero strumento. Ma quindi questa è un'offesa innanzitutto alla donna. È un'offesa poi a chi viene concepito, perché gli nega l'identità. Cioè questa persona non sa da dove proviene e ha tre madri, una diciamo che è quella che lo tiene in grembo, un'altra è la madre genetica e la terza è una madre diciamo sociale, che poi spesso è un uomo. Io credo che insomma c'è un ultimo aspetto, che se vogliamo è un aspetto classista, perché anche visto i costi di questa pratica, evidentemente non è qualcosa che si possono permettere tutti. e quindi, diciamo, in conclusione, la libertà ha bisogno di riscoprire, per essere piena e vera libertà, ha bisogno di scoprire un limite. Sì, la libertà ha bisogno di un limite, ha bisogno innanzitutto della responsabilità, ma ha bisogno di alcuni limiti. Ripeto, uno è il limite dell'altro, l'altro è la responsabilità nei confronti delle comunità nelle quali la persona è inserita e infine c'è il limite che ti viene dalla tradizione. Nessuno di noi, insomma, è qualcosa che viene scritta su una lavagna bianca. Abbiamo un passato e questa tradizione non è affondato, in qualche modo è plasmato quello che noi siamo. Ecco, poi c'è un altro limite, ma questo è qualcosa che interessa i credenti e questo limite evidentemente ti viene da qualcosa di sovranaturale. Ma si può ragionare di quest'altra libertà anche non essendo credente. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.